Il Veneto è una regione vivacissima, ma ingannata oggi da una classe dirigente stanca, spesso incompetente, talora corrotta. Dobbiamo cambiare stando al centro, al centro contosi, concretezza e serietà. Questo è il nostro impegno. Alle elezioni regionali del 31 maggio, nella scheda verde, vota Area Popolare e scrivi BOFFO. Grazie a tutti.